Tre palazzine popolari di Chieti sono pronte per la riqualificazione. I lavori annunciati questa mattina dall'assessore ai lavori pubblici riguarderanno l'efficientamento energetico con il cappotto termico e il fotovoltaico ma anche un'area verde e un'altra area comunitaria. Quasi due i milioni di euro a disposizione per i lavori che dovrebbero partire entro l'anno. L'obiettivo è quello di chiudere i cantieri entro fine mandato dell'attuale amministrazione. Parliamo della palazzina che si trova in via Maiella numero 56-58 per intenderci quella di fronte all'ingresso del Teatre Center e poi le due palazzine che sono situate in via degli Ernici, quindi vicino al Palatricalle. Per questi due interventi siamo stati ammessi a circa 1 milione 800 mila euro quindi un milione per via Maiella e oltre 800 mila euro per via degli Ernici e io credo che dentro quest'anno riusciremo a espletare tutte le procedure per l'affidamento della progettazione e poi per l'esecuzione delle opere. Quindi mi auguro che da qui a due massimo tre anni, i tempi ridetti, il codice degli appalti pubblici chiaramente, riusciremo a riconsegnare questi appartamenti e soprattutto gli spazi comuni che abbiamo pensato per i residenti di quella zona.